Le grandi navi vanno alla marittima, come ho già detto, passando dal canale Vittorio Emanuele. Quelle ancora più grandi che faranno in futuro le accosteremo a Marghera nella parte del Vega. Ma deve dirlo il ministro? Non è una competenza mia. Io faccio quello che posso, è quello che avevamo detto in campagna elettorale e quello che continuiamo a sostenere. Così il primo cittadino di Venezia stigmatizza le promesse del governo e ha la domanda inerente alla famosa riunione del comitatone con Gentiloni che avrebbe dovuto tenersi prima a maggio, con data eselitata poi a giugno, di fatto mai tenutasi, risponde Lo deve chiedere al ministro Gentiloni e Dario e al governo. Io l'ho chiesto già tre volte per iscritto. È un brugnaro irrefrenabile. Agli ambientalisti e no grandi navi che da sempre accendono il dibattito in materia manda a dire che... Che sono in pochi, che non sono la maggioranza. La democrazia è bella perché siamo in tanti. Ovviamente fare manifestazioni a Venezia di domenica mattina è facile ed è facile andare su tutti quanti i telegiornali del mondo. Lavorare a Marghera tutti i giorni per lanciare le fabbriche è un po' più complicato.